Non siamo studenti di serie B, hanno scritto in uno striscione i ragazzi che frequentano l'Istituto Professionale Pietro Piazza di Corso dei Mille a Palermo. Questa mattina non sono entrati in classe, sono rimasti davanti alla scuola per protestare con cori e striscioni. La caldaia è rotta, i riscaldamenti non funzionano, nelle classi c'è freddo. Pretendiamo che si intervenga immediatamente per risolvere il problema, ci rifiutiamo di entrare in classe ad oltranza, serve a una temperatura minima per studiare, hanno spiegato gli studenti. Le proteste si susseguono perché quello del piazza non è l'unico caso di aule gelida in città. Nei giorni scorsi una bambina di 10 anni della scuola elementare Manuela Loy era finita in ospedale per ipotermia. L'inverno freddissimo e le aule senza riscaldamenti sono un problema. Stare in classe per 5 ore con 10 gradi è una lezione impossibile da imparare e da accettare. Grazie a tutti.